Grazie a tutti. Cento aziende, imprenditori denunciati per il mancato versamento dei contributi IMSS. È una fotografia impietosa, anche se per certi versi può dirla lunga, su uno stato di crisi che riflette questo momento. Non so se c'è del dolo, non so se c'è della colpa, non so che cosa ci sia, ma come legge questa vicenda, peraltro scabrosa perché 130 aziende siamo a livelli da fantascientifici, non certo di nazione civile. Grazie a tutti. Questo è il fatto plastico. L'evasione dipende sicuramente dalla pressione fiscale in Italia. Ne parlano tutti i giornali, tutti i giorni. Siamo il primo come Paese per pressione fiscale e non abbiamo servizi adeguati per corrispondere all'impresa, ai lavoratori e ai pensionati. Questo è il secondo dato di fatto. Il terzo dato, dire 130 imprese legate alla crisi può essere anche un po' demagogico, perché l'Italia è un altro a un altro primato, quella dell'evasione contributiva e previdenziale. Prima della crisi e durante la crisi 130 miliardi di evasione contributiva e previdenziale vuol dire che ci sono imprese che metodicamente non pagano, che evadono il fisco, evadono l'Inps, evadono l'Inail. Tanto è vero che si è stati costretti a mettere una norma penale, perché è un reato penale per gli imprenditori e i 130 sono stati denunciati penalmente per non aver versato i contributi. Perché c'è anche un'approvazione in debita, perché il lavoratore che sulla busta paga riceve il contributo che deve versare per quota parte viene trattenuto dall'imprenditore. Allora nei 130 vorrei capire chi è evasore totale e chi invece è legato alla situazione di crisi. In questo caso bisogna mettere in atto quei meccanismi che già alcune sentenze, vedo il mese scorso, Bergamo, il tribunale di Bergamo ha assolto un imprenditore perché ha dato priorità nel pagamento dello stipendio rispetto alla tassazione. Quindi dice che noi italiani forse ci conosciamo meglio di tanti altri, c'è anche un sistema però, a fronte delle difficoltà del momento c'è anche un sistema per cui certi imprenditori approfittano della cecità dei controllori per non versare questi contributi. I controlli sono pochi, molte volte si incolpano chi va a fare i controlli, in questo caso l'Inps, mesi addietro Equitalia, tutti ad assalire le sedi. Sono esecutori di norme e di leggi che le fa il Parlamento e quindi sono strumenti. Veramente gli accertamenti in Italia sono sempre pochi. Andrebbero fatti di più, a prescindere da questo dato di crisi, proprio per evitare l'evasione contributiva ai danni dei lavoratori dipendenti che, ahimè, quando poi passano gli anni per recuperare quello che non è stato versato, si trovano, ahimè, poveri, anche perché le pensioni oggi pagano già ben poco. Ecco, noi possiamo ripartire dalla pagina, vediamo Repubblica, ma poi la vedremo anche, vedremo anche magari, vedremo il secolo, insomma, la pagina di quest'oggi. Vedete, autotrasportatori, esplode la protesta, assalto dei bisonti al centro della città. Partiamo proprio di questo lunedì, telespettatori, oggi corteo dal porto fino a Corvetto, delegazione di sindacalisti dal prefetto. Autotrasportatori, la protesta, assalto dei bisonti al centro della città, ma questo discorso va di pari passo con quello introduttivo, Graniero, perché gli autotrasportatori che sfileranno per Genova sui loro mezzi e parteciperanno alla manifestazione indetta dai tre sindacati confederali chiedono più legalità e controlli nel settore. In quello che una volta poteva essere considerato un settore con dei margini, con dei paletti molto larghi, molto larghi, sono loro i primi. Cioè il mondo del lavoro tanto vituperato è il primo a chiedere controlli. Cioè il camionista che viaggiava 24 ore, il camionista che causava gli incidenti, il camionista che oggi, il camionista di oggi, chiede lui i controlli e la legalità in un settore dove le maglie erano molto larghe. Sì, oggi c'è questo corteo a Genova, si va in prefettura proprio per affermare la legalità nel settore. Vi è un utilizzo massiccio di autisti dell'est, in particolar modo, quindi senza regole, senza norme, sfuggono anche la normativa europea facendo dumping sociale verso il padroncino, verso chi, insomma, tutti i giorni, dicevo prima della tassazione, qui c'è anche il costo elevato del gasolio, perché comunque ci sono le accise che continuano ogni regione a implementare, bisogna tener conto dei costi anche della tassazione, che agiscono sul fattore lavoro, e beh loro ricevono dumping da persone che vengono da altri paesi, ma che sfuggono alle norme. Noi vorremmo almeno la parità di trattamento, ed è quello che si chiede stamattina anche al signor prefetto facendo questa manifestazione per la città. E quel dumping è una sorta di concorrenza sleale, no? Una concorrenza sleale, certo. Possiamo dirlo così. Certo, certo. E questo fenomeno, gli autisti si arrivano dall'est, insomma, è già un fenomeno, insomma, consolidato. Come quando si portavano le imprese all'est, oggi il fenomeno addirittura che proviene dalla Cina, il lavoro si sta portando in Africa, nei prossimi anni vedremo, forse anche imprese nostre italiane, proprio per utilizzare un costo del lavoro più basso, di recarsi nel Nord Africa, perché quello che sta succedendo, basta vedere i porti invasi dai cinesi, i porti dell'Africa, basta andare in Marocco, basta andare a Tunis, insomma, è un fenomeno nuovo che prima si è andato verso est, adesso si va verso il Conodato. Un fenomeno senza altro da studiare e da tenere presente, anche perché si avvicina comunque a noi, quindi probabilmente è più facile, anche da parte degli imprenditori italiani, è anche normale andare a realizzare qualcosa dove costa meno, dove certo l'energia, per esempio, non costa come da noi, e peraltro se si avvicina all'Italia, forse potrebbe essere fonte di nuove riflessioni. Siamo con il Corriere della Sera, con noi Antonio Graniero, segretario provinciale della CISL, siamo sul governo, oggi la fiducia a Renzi, sì anche da Civati, per il Ministro Lupi, noi contraria a colpire il risparmio, si è già parlato, insomma, si è già detto su Del Rio, il quale avrebbe parlato di un prelievo sui bot, qualche giornale dice che poi è stato subito corretto, prima GAF hanno letto, l'avrà visto Graniero, di Renzi che dice, no, aspetta, insomma, non pensiamo di agire così, e Del Rio appunto ha detto agire sulle rendite, ma nessuna nuova tassa, come legge questo, quello che è avvenuto Graniero? Ma speriamo oggi che il governo, come è auspicabile, riceve la fiducia al Senato e alla Camera e parte immediatamente con due o tre provvedimenti necessari, il primo sicuramente è quello di alleggerire il famoso cuneo fiscale, le tasse sulle imprese e sul lavoro, questo è il primo atto che bisogna farlo, e bisogna farlo in modo sostanzioso, non basta un pannicello caldo, non bastano pochi soldi, ci vuole un effetto sostanzioso, partendo dai redditi più bassi e arrivare al cedo medio. La seconda questione che bisogna fare è che bisogna uscire dalle ambiguità, io capisco che è un governo di grande coalizione per tenere assieme tutti, ma quello di tassare una sola volta, io dico una sola volta, non come è stata fatta quando è stato introdotto l'ICI sulla prima casa, poi Tolta, poi i balzelli che ci sono stati, ma una sola volta il prelievo sui grandi patrimoni, non i bot, ma sui grandi patrimoni, basterebbe fare un calcolo, il 10% che detiene più di 2 milioni di euro, quindi parliamo di questa entità di 2 milioni di euro, porterebbe a casa il governo 335 miliardi di euro, beh, potrebbe immetterlo per sostenere il lavoro, per sostenere le imprese, per sostenere lo sviluppo del sistema paese, abbassando l'energia e rilanciando le infrastrutture di cui è debole il paese, per far rimanere le aziende qui. Basta vedere il caso ILVA, nostro genovese, che per produrre ha bisogno, è divoratrice di energia, e bisogna di abbattere il costo dell'energia, se la vogliamo tenere a Genova, del 30%. Ecco, queste sono le cose che deve fare immediatamente il governo. Le GAF, sì, le fece anche Bertinotti, quando disse che bisognava... Eh, faccio tutti. Sono... È umano fare la GAF. Il bot, comunque, in Italia, il debito pubblico, perché per sostenere il debito pubblico, non è in mano alle famiglie, ai piccoli risparmiatori, ma la massa consistente è in mano alle banche, di cui la Germania è grande ghiotta, divoratrice del nostro debito pubblico. Meno male che lo spread si è abbassato, perché noi pagavamo gli interessi sul debito a Paesi e a banche estere. Eh, ma questo è da quando eravamo... Insomma, da quando il nonno a Natale ci regalava le 10.000 lire, le portavamo in banca, il bancario scriveva sul libretto, gli interessi erano del 10%. Bisogna dire che su chi fa speculazione sulle grandi rendite è anacronistico che sul lavoro si paga il 32% e sulle rendite si paga il 20%, ma è stato elevato da pochi anni. Sicuramente bisogna portarlo alla media europea e quindi elevare chi fa speculazione, ma qui parliamo di grandi numeri, di grandi cifre, non del nonno che investe i 5.000 euro o i 5 milioni di una volta in bot, avendo in anticipo gli interessi e quindi godeva anche di questa... Oggi gli interessi sono ben poca cosa, qui parliamo di grandi patrimoni e di grandi investitori che, ripeto, sono banche, sono assicurazioni che hanno in mano il debito pubblico del nostro Paese. Non sono certe le famiglie dei risparmiatori che si rivolgono ad altri strumenti finanziari. Rimane con noi Antonio Graniero, anche perché c'è una cifra, un dato che è stato rilanciato ieri da tutte le televisioni che si presta ad essere interpretato è il valore di ognuno di noi, è il valore sul mercato di ognuno di noi, secondo l'Istat, ma non solo. Secondo l'Istat in Italia ci vogliono due femmine per fare il reddito di un maschio e siamo nel terzo millennio. Siamo nel terzo millennio, ditemi voi, ragioniamo su questo, non sappiamo perché, ma due donne, occorrono almeno due donne per creare il reddito di un uomo. Ditemi se è normale, ditemi se è logico, ditemi se ha della logica, ne parleremo tra poco con il nostro ospite Antonio Graniero. Grazie. 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 Tre spettatori sono le 8, 37 e 18, siamo con Antonio Graniero, segretario provinciale della CISL. Graniero, siamo su un'altra testata, abbiamo visto il Corriere della Sera, adesso vediamo Repubblica, siamo nel taglio basso del quotidiano di quest'oggi, ingrandiamo la notizia, è stata lanciata ieri con grande vigore, insomma, da tutti i telegiornali ed è questa, ma non è solo questa, è il valore sul lavoro di ognuno di noi. Allora, intanto, Istat, in Italia ci vogliono due femmine per fare il reddito di un maschio, sul lavoro una donna, vale la metà di un uomo, l'articolo di Chiara Saraceno, la capacità di una società di produrre beni e servizi, necessario a soddisfare i propri bisogni, dipende dalla quantità, qualità, combinazione delle risorse, per questo il capitale umano viene sempre più frequentemente incluso tra le risorse economiche, perché è stato scalpore poi il valore di ognuno di noi, qualcuno dice, ma non si può mercificare. E qui mi fermo. Perché sul lavoro una donna vale la metà di un uomo? Ma innanzitutto bisogna, e quindi è un'autocritica che faccio anche per le politiche contrattuali che il sindacato fa, bisogna incominciare veramente a fare politiche di genere, perché la donna non arriva mai ai posti apicali, perché comunque ha il problema anche della famiglia, che in Italia non viene riconosciuta, mentre si rilancia sempre il nodo famiglia per investire sulla famiglia, poi quando una donna si trova nel mondo del lavoro si fanno politiche anche degli orari che non sono compatibili con le donne e quindi la progressione, la carriera è tutto al maschile. Credo che questa sia una colpa, io me la sento sulle spalle come segretario, come CIS, perché nelle politiche contrattuali non bisogna fare piageria, dire sempre le donne, le donne, e poi si fa poco per questo. Credo che valgono anche le politiche che stiamo introducendo gradatamente quello di welfare contrattuale che vanno in questa direzione, ma bisogna fare di più, un po' come è stato fatto nei consigli di amministrazione delle aziende che per legge devono essere al 50% uomo-donna, no? Però non dobbiamo arrivarci sempre in modo coercitivo per norme di legge, io credo che si possono fare passi ulteriori e poi l'altro fenomeno che porta a quel dimezzamento è perché la donna è entrata nel mercato, siamo ben lontani da quella soglia che l'Europa aveva dettato del 60%, perché la donna entra nel mercato del lavoro tardi, perché a volte c'è la natalità, c'è il matrimonio, ci sono altre condizioni, si entra tardi e quindi quando si entra rimane indietro. Faccio un esempio, oggi, stavo facendo un percorso mentale, nei posti apicali delle grandi aziende dello Stato, Fimeccanica, non c'è una donna, sono tutti maschi, allora anche il governo che ha il potere di queste nomine deve incominciare anche da lì a fare, perché ci sono donne che valgono, abbiamo il nostro ministro oggi, che per il primo ministro che si avvicenda a quel di Castero che è donna della difesa, beh, credo che anche nei posti apicali dei posti dei boiardi dello Stato ci possono stare delle donne. O meglio, avevamo la moglie di Guarguagnini. Certo, era capo di un'azienda. Avevamo la moglie, la moglie di Guarguagnini. Capitale umano, altro quotidiano, li vediamo tutti in un ventaglio di proposte, qui siamo con il giornale, ma ricordo a chi si sintonizza, lo dico ai critici di Repubblica, abbiamo visto Prima Repubblica e il Corriere della Sera, non è che, lo dico perché tante volte non si sintonizzano adesso e dicono ah, non parlo di loro perché fanno vedere il giornale. No, li vediamo tutti, a meno qui da noi è così. Allora, vediamo subito l'italiano, siamo sempre sul capitale umano, è chiaro che qualcuno, qualcuno è venuto alla pelle d'oca, graniero, perché ha detto ma parliamo di valore, cioè il valore dell'uomo è commensurabile, noi valiamo 342 mila euro. L'italiano però vale 70 mila euro o meno degli altri europei. Certo che ovviamente il giornale su posizioni di centrodestra può essere cavalcare questa notizia critico verso l'Europa però la mia impressione è che è quella cioè quella di valere meno perché chi fa un qualsiasi lavoro qui probabilmente se lo facesse in Germania o a Londra nella carissima Londra guadagnerebbe tre volte di più punto punto. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo perché l'Europa oggi è stata l'Europa della moneta noi bisogna veramente costruire l'Europa sociale si dice da anni ma non si è fatto niente faccio un esempio il lavoratore tedesco vale più del lavoratore italiano a parità di condizioni della fabbrica metalmeccanica della Volkswagen o della Fiat vale il 30-40% di più del lavoratore italiano a parità di questo in più pesa la fiscalità e in più pesa che quando il nostro paese emette una norma o la omette riceve sanzioni dell'Europa beh allora l'Europa dovrebbe anche uniformare il sistema di tassazione il sistema di welfare il sistema sociale insomma dovremmo avere politiche unitarie visto che poi ai fondi europei accedono tutti i paesi perché questo è l'Italia è il primo paese a contribuire per i fondi europei e riceve meno degli altri paesi perché è il primo per contribuzione e riceve meno allora alla politica Matteo Renzi dico al governo in carica si preoccupi anche dell'Europa di una nuova Europa unita per togliere questi orpelli al nostro paese perché altrimenti faremo pagare il debito sempre ai lavoratori e ai pensionati e si arricchiscono perché anche durante questi sette anni di crisi i ricchi in Italia sono cresciuti chi aveva soldi per investire in speculazione si è continuato ad arricchire proseguiamo con la stampa con la stampa vi spiego vi spiego perché mi dicono io non ci credo mi dicono che la stampa sia vicinissima ad un gruppo automobilistico e ad una squadra di calcio ma io non penso che sia così la stampa è un quotidiano libero ma questo perché per dire arrivo subito al dunque non mi ha scandalizzato Graniero il fatto che la Fiat metta la base legale in Olanda e paghi le tasse a Londra cioè non mi scandalizza siamo in un mondo globalizzato la speranza è che un giorno da Londra vengano qui quello che non capisco è come fa l'Inghilterra ad andare avanti se prende alla Fiat solo il 30% quando la Fiat qui dovrebbe versare il 60% è questo che non capisco vi ripeto liberi tutti a mio avviso uno certo peccato peccato perché abbiamo pagato noi la cassa integrazione agli operai peccato 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 ma il problema a mio avviso è un altro perché là ce la fanno ad andare avanti e qui non basta tassare la Fiat al 60% ma la posso mettere così mi dica che mi dica che faccio la corte dei condi dice che c'è corruzione in Italia per 60 miliardi lo stabiliscono loro vuol dire che qui per andare in un ufficio pubblico perché di questo si parla e quindi per il cittadino l'impresa per avere un diritto deve pagare qualcuno per accelerare la pratica o per avere il malaffare costa 60 miliardi e non c'è sanzione che tenga su questo negli altri paesi si va in galera negli Stati Uniti si va in galera allora ho detto prima 130 miliardi di evasori 60 di corruzione siamo a 200 miliardi e il 10% del debito pubblico del nostro paese cosa che dobbiamo rientrare dall'anno prossimo con 50 milioni per il fiscal combat allora questo è uno dei mali faccio l'altro esempio non sono i dipendenti pubblici ad affossare questo nostro paese oggi c'è l'articolo dei 165 miliardi del costo dei 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici quel giornale non ha scorporato quanto costano i 20 mila boiardi le strade che costano 70 miliardi 3 milioni di dipendenti pubblici e 20 miliardi all'ordo e 20 miliardi i 19 mila allora i dipendenti alti le cariche funzioni dello Stato alla Corte dei Conti alla Camera dei Deputati che non rispondono a nessuno e sono quelli che hanno cessato le riforme di tutti i governi che si sono succeduti beh devono rispondere a qualcuno altrimenti facciamo finta che quando il governo precedente voleva mettere la tassa sulle pensioni alte beh i magistrati hanno detto che era illegittima perché sono loro nelle condizioni sono i controllori i controllati in questo ecco perché allora l'Inghilterra che è un paese da questo punto di vista normale non eccezionale normale le imprese pagano meno ecco perché probabilmente noi valiamo meno perché poi a lungo andare se tiriamo i conti noi valiamo meno e l'inglese vale di più e l'americano vale di più siamo verso la conclusione vi faccio vedere siamo sempre sulla stampa riguarda la drammaticità del mondo del lavoro vedete vi ingrandisco dopo il suicidio l'azienda chiude non siamo qui per raccogliere il facile applauso come spesso vediamo in tante trasmissioni su queste tematiche però dice tutto la stampa dove il lavoro non c'è più significa che c'era è accaduto qualche cosa chi aveva delle responsabilità non ce l'ha più fatta e se n'è andato in che modo nel nord est le fabbriche degli imprenditori morti hanno tutte cessato l'attività e in Brianza svanisce il sogno high tech il graniero un paese deve tenere conto di questo cioè non si può arrivare a non dialogare neanche più con la banca con la banca che deve comunque comprare vendere danaro fare il suo mestiere e perché uno non è più credibile se ha un momento di sbandamento io credo che questo sia uno dei temi che va affrontato immediatamente anche perché le banche hanno preso soldi dall'Europa grazie al governatore Draghi all'1% e non lo hanno rimesso sul mercato perché le norme trincerandosi dietro alle norme di Basilea ma le imprese vanno in banca non quando è solida e quando sta bene ma è eufemismo uno si rivolge all'istituto bancario quando ha delle difficoltà ma se rispetto alle difficoltà le banche non danno credito beh è un gatto che si morde la coda allora su questo bisogna fare un ragionamento nel nord est sta succedendo un fatto che va analizzato questo determina anche la solitudine io leggevo stamattina proprio un artico di uno psicologo quindi di persone esperte in questo bisogna che le associazioni stiano intorno alle imprese e ai lavoratori perché quel suicidio comunque ha messo anche sulla strada tante famiglie perché ha chiuso un'azienda e poi l'altra questione leggevo proprio ieri in Campania che entra un organo di controllo in una pizzeria perché c'era la moglie e ha sanzionato con 2000 euro ecco bisogna fare attenzione anche qui io prima ho fatto la divisione delle 130 imprese ci sono imprese che sicuramente erano in nere e vanno sanzionate ci sono in quei 130 imprenditori che in questo momento hanno difficoltà e vanno anche accompagnati in un percorso di sanzione bonaria come esiste già allora bisogna fare la differenza altrimenti facciamo di un erbo un fascio facciamo veramente il male al nostro paese e allora in questo dico che le imprese vanno aiutata io credo molto che possiamo farcela se introduciamo la democrazia economica la partecipazione dei lavoratori perché al lavoratore sta a cuore l'azienda quei lavoratori che oggi sono senza poste con l'impresa con il proprietario che si è ammazzato e quindi una vita persa sarebbero stati intorno all'azienda avrebbero capito prima le difficoltà avrebbero aiutato serve anche a questo nelle imprese di piccola dimensione o di grande e media dimensione grazie a loro Antonio Graniero segretario provinciale della CISL oggi sarà una giornata particolare perché comunque parlando di proteste vi ricordo dalle 9 da Ponte Etiopia a Genova quando si dice Ponte Etiopia si parla di un luogo preciso del lavoro che ha mantenuto tante nostre famiglie e tanta nostra città sciopero degli autotrasportatori che chiedono legalità e ordine nel settore sciopero che arriverà alla prefettura e passerà quindi qui sotto Telenord quindi grazie Graniero adesso le breaking news un rubro velocissimo di notizie poi la nostra edicola tra gli spettatori poi alle 9 e mezza torneremo insieme per aprire come ogni lunedì lo sportello del cittadino assegnazioni case popolari edilizia popolare gli idraulici le problematiche delle calderine e la polizia stradale con i consigli per aiutarci a guidare meglio e in sicurezza vi aspetto quindi tra pochissimo grazie breaking news grazie a tutti grazie a tutti